Buongiorno da Stefania Bonomi e benvenuti alla Occhio ai Giornali oggi sabato 13 maggio. Iniziamo subito a vedere qual è l'onomastico del giorno e che santo festeggiamo oggi. Allora oggi è Santa Beata Vergine Maria di Fatima, il titolo con il quale il 13 maggio la Chiesa celebra Maria è legato alle apparizioni di Fatima in Portogallo nel 1917. La Vergine si manifesta per sei volte a tre pastorelli, Lucia Dos Santos e Francesco Giancinta Marto. Chiede preghiere, penitenza e conversione. E andiamo a vedere le previsioni del tempo. Purtroppo il tempo ancora non è bello. Tempo variabile, instabile, con possibili piogge sparse in appennino nel pomeriggio e settori meridionali dalla tarda sera. Le previsioni della prossima settimana purtroppo sono ancora molto brutte mettendo soprattutto sul martedì un tempo terribile. Comunque da venerdì in poi più o meno il tempo comincia a riprendersi. E andiamo a vedere un pochino cosa succede oggi. Allora abbiamo la Corriera Adriatico e il resto del Carlino di Pesaro. Bufera di pioggia e grandine. Si apre la nostra pagina con la bufera di pioggia e grandine. Dieci minuti di delirio metro trasformano la città in una cartolina da bianconatale in pieno maggio. Acqua torrenziale sulle strade, allagati garage e sottopassi. A Fano il mantempo provoca un incidente. E andiamo a vedere subito, apriamo la pagina 6 e 7 dove appunto si parla di questa situazione. Ed eccola qua, subito si punta su quello che è successo ieri. Ieri bufera di pioggia e grandine, strade trasformate in fiumi. Dieci minuti di delirio meteo imbiancano la città come sotto la neve, allagati sottopassi e casi. Le auto in transito ieri pomeriggio all'altezza del curvone sulla statale 16. E questo è quello che fa vedere il pioggia di Bufera e Grandine. Dopodiché il corriere adriatico punta sugli arredi, gli albergatori. A Levante non basta soltanto il cascone. Lidi da bandiera blu, Agabici conquista il vessillo numero 30. Oggi grande festa per il Giro d'Italia, l'arrivo alle 17. Patto tra AST e Magalotti, interventi anche a Urbino. Verrà mantenuta la chirurgia senologica, ma i casi più complessi concentrati a Fano. Questo è quello che ci fa vedere il corriere adriatico. Passiamo invece al resto del Carlino. Pesaro punta tutta la rassegna stampa della mattina. Sesso in caserma finanziere indagato. Un 53enne accusato di aver abusato dell'amica della sua compagna durante il servizio di piantone. Maxi antenna anche a Muraglia. Scatta la rivolta dei residenti. Il comune va spostata da lì. Poi la pagina si porta sullo sport. Basket, cuore e orgoglio. La VL vuole il colpo grosso. Oggi a Milano la prima sfida dei play-off Visconti. Ora dobbiamo godercela. Ed ecco qua la notizia di oggi. La più importante per la nostra zona. Oggi arriva il Giro d'Italia a Fossombrone. Cerchiamo lo sprint. Entriamo adesso nel vivo di queste pagine. Allora, tornando al Corriere Adriatico, andiamo subito a quello che è il primo piano su Pesaro. Pesaro schianto per il mantempo. All'ospedale i due guidatori. L'incidente nel pomeriggio lungo la provinciale Afenile di Fano. Scontro tra due automobili sulla provinciale 45 Afenile di Fano. Ieri intorno alle 15.15. Mentre era in corso una forte grandinata mista a pioggia. Ferite entrambi i conducenti, un 21enne neopatentato di origine pakistano e una pesarese di 55 anni. Chiusa la strada per circa mezz'ora. Ma cos'è successo ieri? Una bufera di piogge grandine, strade trasformate in fiumi. Si ricorda la famosa grandinata del 2018, quando vennero giù dei pezzi di grandine, che erano grandi, come delle noci. Spaccarono i vetri. C'era tutta la gente che si riversava dalle autostrade sotto i sottopassi per cercare di ripararsi. E c'erano vetri di macchine rotti da tutte le parti. Risuccede. Bufera di piogge grandine, strade trasformate in fiume. Dieci minuti di delirio meteo imbiancano la città come sotto la neve. Allagati sottopassi e case. Le auto in transito ieri pomeriggio all'altezza del curvone sulla statale 16. Sono stati dieci minuti di delirio meteo, ma concentratissimi, lunghi e abbastanza da scatenare su Pesaro una bufera di acqua e grandine di potenza, tale da restare a memoria nei ricordi di ciascuno. Un diluvio di chicchi talmente inaspettato che ha regalato scorci della città che sembravano pennellate di cartoline natalizie. Ieri al nostro TG delle 20 e 30 abbiamo fatto vedere delle immagini che sono state inviate dai nostri telespettatori che hanno fatto vedere una situazione che sembrava veramente Natale con la neve, da quanta grandine era caduta. Bello e suggestivo il bianco Natale. Peccato che ieri fossimo al 12 di maggio, più vicino a un'estate al mare che alle gari sotto l'arbi. Invece intorno alle 16 Pesaro è stata colpita da una violentissima bomba d'acqua, la seconda nel giro di nemmeno 24 ore. È stato veramente una cosa molto molto forte. Sempre a Pesaro, cambiando discorso, andiamo al caso Maxi Antenna vicino all'asilo, il comune Nova Spostata. Stanno facendo un'insurrezione per questa cosa, la sorpresa dei residenti di Monte Granaro diventa rabbia. Interviene l'assessore Conti. Risvegliarsi con un'antenna di 25 metri sotto casa è vicino ad un asilo. I residenti della zona di via Forlanini e via Ferraris nel quantiere di Monte Granaro-Mutraglia sono andati su tutte le furie. Ieri mattina perché è stato posizionato all'improvviso un ripetitore della TIM. Il comune sta morintorando il caso e ne ha già chiesto la rimozione. Sempre sulle pagine di Pesaro, sempre il Corriere Adriatico, mette in rilevanza il dibattito. A Levante il solo cascone non basta. Dateci più parcheggi per gli hotel. Le parole di Filippetti sui nodi dell'accoglienza turistica trovano sponda tra i colleghi albergatori. Pro e contro Nardo Filippetti, gli albergatori non sono rimasti indifferente all'analisi del patron di Excelsior e Chrysler sulla direzione da dare al turismo pesarese e alla politica dell'accoglienza. Non tutti vogliono esprimersi pubblicamente ma chi lo fa ammette che manca un prodotto pesaro oltre alle carenze che ancora sono realtà della zona mare. Sono gli albergatori dell'ultimo tratto di Levante a sud di Piazzale e D'Annunto a esprimere le critiche più forti rivolte all'amministrazione comunale. Andiamo alle pagine della nostra città e siamo a Fano. Fano apre con pesca a strascico verso l'abolizione. Piccinetti scelta troppo drastica, ossia la misura europea esecutiva entro il 2023. Il professore indaga regole alternative per tutelare il mare. Cos'è successo? Un'altra tegola sta per abbattersi sulla marineria fanese. La Commissione europea ha inserito nelle linee guida sulla tutela dei mari una misura per ridurre la pesca a strascico dal 30% tra il 2024 e il 2027 prevedendo una sua progressiva diminuzione entro il 2030. Però che cosa significa questa? Significa che la fine dell'attività per quei pescherecci di grosse dimensioni che sono sopravvissuti allo sfoltimento della flotta fanese che appena 40 anni fa con i suoi 75 pescherecci costituiva ancora un'entità leader per tutti i porti della triatica. Far sparire i sopravvissuti significa sacrificare un mondo di conoscenze, di tradizione ma anche mettere in difficoltà non poche famiglie, sia di fanesi che di immigrati che hanno trovato lavoro proprio negli equipaggi. Sempre su Fano i rifiuti porta a porta, spinto e cassonetti intelligenti. Vediamo l'articolo Movimento 5 Stelle e PD chiedono di cambiare il metodo della raccolta differenziata. Raccolta differenziata in stallo è il momento di cambiare strategia attivando un sistema di raccolta porta a porta, spinto e implementando le sole isole ecologiche dotate di cassonetti intelligenti. Passiamo al turismo adesso parleremo tanto prossimamente del turismo in quanto andiamo verso naturalmente la stagione estiva il turismo promosso nella tazzina bella questa iniziativa prendi il caffè e scopri il territorio che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno messo sulle bustine di zucchero 16 foto della città inserite nell'itinerario della bellezza un'idea veramente splendida le bustine di zucchero come veicolo promozionale turistico di Pesaro, Fano e Urbino e degli altri comuni che abbiano aderito agli itinerari della bellezza l'associazione di categoria ritiene di grande efficacia tanto da attribuire il premio prodotti d'eccellenza all'impresa personal zucchero di poggio Toriana Rimini che l'ha attuata questa è un'idea molto carina perché facciamo promozione chiaramente al nostro territorio ed ecco qua sotto passo di Viale Cairoli pioggia di critiche il dibattito bene comune lupus in fabula contro il progetto che abbatte 15 platani pausa di riflessione almeno fino a settembre ne fista i termini il bene comune lo scenario è quello del cantiere per il nuovo sottopasso di Viale Cairoli ed è però lecito dubitare che l'istanza per fermare il Via ai lavori programmato per le prossime settimane abbia reale chance di essere recepita di sicuro si insiste da ambo i lati sull'esigenza di ripensare un'opera che cambierà radicalmente il volto del salotto di Fano e che non può essere valutata solo da tecnici e amministratori e andiamo a vedere le pagine della Val Metauro eccoci qua Carovana Rosa oggi la grande festa 200 paesi collegati alla diretta l'arrivo del Giro d'Italia a Fossombrone ne abbiamo parlato tantissimo è stata fatta addirittura anche la sigla del musicale dell'arrivo del Giro d'Italia a Fossombrone oggi è previsto alle ore 17 dalle 15.30 i ciclisti impegnati sul circuito cittadino allora l'ottava tappa Terni-Fossombrone sono 60 i chilometri di circuito di Fossombrone ripetute due volte l'ingresso dei ciclisti a Fossombrone è l'arrivo alle 15.30 arrivo anche alle 17 alle 17.30 dalle 14 avremo gli spettacoli vari sul rettilineo del traguardo il collegamento RAI dalle 10.50 fino naturalmente al termine della tappa e l'accesso libero a piedi del pubblico all'area della gara mille addetti un'organizzazione da brividi sembra insomma che questo evento sia stato organizzato perfettamente l'emozione di Omiccioli il sindaco Berloni in città un fermo commovente e siamo tutti in attesa appunto di questo bellissimo evento passiamo alle pagine di Valcesano Valcesano apre sul restauro eccolo qua all'oratorio dell'ascensione lavori, intonesci, luci e tetto la fondazione Carifano interviene a Pergalo accogliendo l'input della sindaca si rifà il look il meraviglioso oratorio dell'ascensione al palazzolo una delle perle più splendenti di Pergola grazie al sostegno della fondazione Carifano su sollecitazione dell'amministrazione comunale sarà possibile attuare quegli interventi necessari e non più procrastinabili di conservazioni e manutenzione sono circa 50.000 euro i soldi investiti i lavori che partiranno entro l'estate riguarderanno la ristrutturazione del tetto gli intonaci, l'impianto elettrico e un piccolo restauro agli affreschi gli interventi sono stati presentati ieri in sala consigliare il lutto l'addio al medico votato al dialogo Giovanni Tommassetti lavorò in ospedale e fu consigliere comunale ed ancora lavori, fantasma e atti falsi c'è imprenditrice pergolese a Pergola anche l'imprenditrice pergolese Tiziana Tittoni è coinvolta in un precedimento penale al tribunale di Ancona su presunti lavori, fantasma e atti pubblici falsi su 12 indagati 7 hanno chiesto di procedere con i riti alternativi per l'udienza preliminare andiamo alla pagina di Senigallia eccoci qua la sentenza la cava a Monte Sant'Angelo non si fa è la fine di una querelle lunga 18 anni finalmente al Consiglio di Stato vince il comune di Arcevia sulla provincia per Ticaroli bene per ambiente turismo il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al braccio di ferro tra il comune di Arcevia e la provincia di Ancona sull'apertura della cava di Monte Sant'Angelo ieri finalmente è stata emessa la sentenza con cui è stato accolso il ricorso dell'amministrazione comunale la cava non si farà torniamo al resto del Carlino abbiamo fatto un approfondamento abbastanza importante sul Corriere Adriatico come vediamo il resto del Carlino aveva aperto sesso in caserma finanziere indagato la pioggia anche qua pomeriggio da incubo Pesaro è stata quella più massacrata diciamo dalla pioggia piogge grandi ne sottopassi allagati e strade imbiancate l'incubo come dicevo prima del 2018 in meno di mezz'ora Pesaro sembrava sommersa dalla neve con fiumi di acqua che attraversavano le vie invadendo cantine e locali è intervenuto addirittura il sindaco Matteo Ricci che su Facebook ha scritto una precipitazione potentissima d'acqua e grandine caduta in pochi minuti tutti i mezzi della protezione civile e dei vigili urbani sono in movimento non ci risultano danni alle persone qui si continua con le antenne la serie continua ne spunta una muraglia accanto all'asilo ritorniamo all'articolo che abbiamo già trovato sul Corriere Adriatico il Comune ha il dovere di avvertire i sedi denti che si andrà a installare un ripetitore telefonico l'amministrazione lì non può stare va messa altrove beh è inaudito piantato in un'antenna di 40 metri a pochi passi da un asilo vogliamo anzi pretendiamo che il Comune tuteli i suoi cittadini come suo compito non l'abbandoni agli interessi di pochi e andiamo a vedere invece quali sono le notizie di cronaca eccolo qua alla sbarra per violenza sessuale chiesti sette anni abusò di un'amica si tratta di un 22enne albanese di Vallefoglia la Vicenza risale al giugno 2022 fuori dal Malindi di Cattolica era accusato è accusato di aver violentato una sua amica di 21 anni pesarese gettando la terra impedendole di reagire questo sarebbe accaduto fuori dal locale Malindi di Cattolica nel giugno scorso e quindi oggi è finalmente arrivato il processo è una bellissima notizia per quanto riguarda il turismo nel blu dipinto di blu a Pesaro e Gabice confermato l'Oscar per la qualità del mare l'assessore Vimini per noi è il diciannovesimo anno consecutivo un orgoglio poter hissare questo vessillo anche per i nostri turisti e al confine con la Romagna esultano siamo tra i primi in Italia andiamo a vedere invece a Fano il resto del cartino punta appunto la bandiera blu sventola anche a Lido è la new entry assoluta festeggia l'assessore Lucarelli un passo avanti molto importante e ora si lavora per la stagione alle porte la new entry per Fano è il Lido l'ambito con riconoscimento della FI va quest'anno a Fano Nord Lido Sassoni e Torrette ieri la cerimonia di consegna a Roma alla presenza del ministro del turismo Daniela Santanchè 18 i comuni delle Marche tra cui Fano che si sono aggiudicati il vessillo ecco il ringraziamento di papà di Tommaso della Dora commossi per l'affetto della città a tre giorni dai funerari la famiglia di Tommaso della Dora il segretario PD scomparso a sole 43 anni vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e condiviso il loro dolore parenti amici conoscente autorità cittadine ed esterni mezzi di comunicazione è stato un profondo contributo di sincero cordoglio che non dimenticheremo dice papà Mario della Dora 80 anni psicologo psicoterapeuta un abbraccio forte a tutti degrado nella scuola la lega insorge su Torrette i consiglieri puntano il dito contro infiltrazioni infissi ammalorati e non solo qui viene denunciato lo stato di degrado della scuola dell'infanzia di Torrette e qui torniamo questa cosa della promozione del territorio sullo bustine dello zucchero di cui ne abbiamo già parlato e purtroppo anche Fano è stata corpita ieri grandine pioggia seminano danni paura per una donna incinta nessun problema è stata salvata al maltempo colpisce tra Cartoceto e Colli al Metauro disagi lungo le strade e tanti alberi abbattuti giovane al sesto mese di gradivianza soccorsa dai vigili del fuoco polizia locale in zona di Campania e c'è la frana che piomba al confine tra Colli e Monte Felcino al confine tra il comune di Colli al Metauro e quello di Molte e Fincino lo smottamento si è verificato verso le 4 del pomeriggio dopo che una violenta grandinata cominciata verso le 15 e 30 aveva messo il carico da 11 su tutta l'acqua dei giorni scorsi per fortuna la cosa non ha provocato nessun incidente né tantomeno ferito e qui un'altra notizia Fano asfaltature in città Fratelli d'Italia lancia la polemica le dichiarazioni della Brunori nel mirino dell'opposizione altra notizia di Fano l'oratorio dell'ascensione tornerà presto a risplendere un finanziamento di 50 mila euro della fondazione Carifano permetterà lavori di conservazione e manutenzione in uno degli scrini preziosi di Pergola inizieranno entro l'estate in uno degli emblemi del patrimonio artistico della zona ed ecco un'altra notizia che riguarda Fano e Valcesano San Lorenzo investe su stradi edifici teatro e asilo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 702 mila euro il bilancio consultivo il sindaco dell'Onti sui lavori partiremo dalla rete varia Pergola ecco qua l'articolo comunità e lutto per il dottor Tomasetti anche qua Pergola dato ieri in cattedrale l'estremo saluto commosso al dottor Giovanni Tomasetti spentosi giovedì a soli 71 e Colle al Metauro aperti i termini per le borse di studio sono a favori della secondaria di secondo grado per presentare l'istanza ci sarà tempo fino al 7 di giugno e andiamo infine a vedere cosa succede ad Urbino ad Urbine vi garantiamo una sanità per quello che meritate al convegno Lions gli esponenti regionali hanno annunciato nuovi dirigenti il consigliere Baiocchi sappiamo che dobbiamo fare meglio degli altri borse di studio di 150 euro per studenti locali in base all'Ise il comune di Urbino assegna borse di studio da 150 euro a sostegno della spesa per le istruzioni di alunni frequentanti scuoli superiori a partire dall'anno didattico 2022-2023 sono ammessi al bando studenti e studentesse residenti nel territorio comunale con un'Uise familiare non superiore a 10.632 euro e vediamo l'ultima notizia di questa giornata Palazzo Ducale aperto fino a tardi in occasione della notte europea dei musei stasera a Urbino la galleria nazionale delle marche prolungherà l'apertura fino alle 22.15 orario dell'ultimo accesso le 21.15 il costo è quello di un euro direi che con questa notizia abbiamo visto che comunque oggi tutta la rassegna stampa si è dedicata all'alluvione che c'è stata ieri che ha creato dei disastri anche a questa bella notizia appunto del turismo oggi tra l'altro dovrebbero aprire gli stabilimenti balmiari ma purtroppo la stagione non consente in questo momento di poterci ancora godere una bella giornata al mare magari anche a prendere un po' di sole dovremo avere ancora un po' di pazienza io naturalmente vi saluto e vi ricordo anche che domani è la festa della mamma e tra tutte le cose belle che ci può dare la vita il dono di una buona madre è una di quelle in assoluto migliori con questo Stefania Bonomi vi saluta vi augura un buon sabato e vi invita naturalmente a restare sul nostro canale per seguire i nostri programmi buona giornata grazie a tutti